Siamo alle grotte di Stiff, che cos'hanno di particolare? Allora, queste grotte sono particolarissime perché sono delle grotte attive, infatti si tratta di una risorgenza attiva. È un fiume che scava la grotta, è un fiume che nasce all'esterno, che fa 6 km nella montagna, costruisce la grotta e risorge alla luce all'ingresso della grotta che si visita. È una grotta turistica, ha un percorso di 700 metri, 700 metri all'andata, 700 metri al ritorno. La visita è guidata, dura all'incirca un'ora e all'interno della grotta si può vedere il lavoro completo dell'acqua, quindi la creazione delle stalattiti e delle stalagmiti tramite lo stilicidio, ma anche il lavoro di distruzione dell'acqua, perché ancora oggi il fiume scava la grotta e quindi sta ancora costruendo la grotta. Questa grotta, vi ripeto, è unica in Italia, proprio perché ha un percorso turistico nella zona attiva. È una grotta vicinissima al centro dell'Aquila, noi siamo a 15 km dall'Aquila, siamo a un'ora di macchina da Roma, quindi facilmente raggiungibile da tutti quanti.